Una piccola premessa prima di lasciarvi al video è che essendo la prima volta che registravo con questo mio amico con cui gioco spesso Vi lascio soltanto immaginare cosa andrete a vedere Vai parlo un attimo Bla 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 Parlo un attimo Parlo un attimo Io vado Un attimo, non ho quattro secoli Aspetta due secondi È pronto lei? Io qua sono Allora 3, 2, 1 Eh ciao a tutti ragazzi quest'oggi come potete vedere Non mi fa ridere Le grandi orecchie incredibili dell'universo Ho chiuso il manuale Che hai fatto? Ho chiuso il manuale Lo devi tenere Partiamo male ma male Ci sono Ok allora partiamo Sono professionisti Eh ciao a tutti ragazzi quest'oggi come potete vedere Ok Ok Basta sto zitto giurovi Ce la faccio 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 Ce lo giuro ce la faccio Ce la facciamo Vai 3 Ne va per il mio onore 3 3 2 1 Eh ciao a tutti ragazzi Quest'oggi come potete Non ho fatto niente Non ho fatto niente Io chiuso Non ho fatto niente E ciao a tutti ragazzi Oggi siamo qui in un nuovo video Del tuo bellissimo Siamo giocare Siamo per giocare Aspetta musica Eh ciao a tutti ragazzi Quest'oggi come potete vedere Ci troviamo su un gioco incredibile Keep talking and nobody explodes Come avrete penso intuito Non sono da solo Ma sono con un mio carissimo amico Salve signor Gecko Sei pronto? Io sono nato defusatore Sì mamma mia Counter Strike è il mio gioco Ragazzi lo scopo del gioco È disinnescare una bomba Allora dovevo giocare inizialmente Questo gioco insieme a Gecko Poi però abbiamo detto Ah si ho deciso di registrare insieme a lui Così un episodio Così a scazzo Allora vi spiego un attimino il gioco Ho acquistato il gioco su Steam Però Gecko non ha davanti a sé Un gioco Ma lui ha il manuale Ok? Comunque il link del manuale Lo trovate qui sotto in descrizione Gecko più o meno Cosa dovremmo andare a fare? Allora quello che sarebbe L'obiettivo del gioco È quello di disinnescare la bomba Che il nostro caro Peppepuzzo Ci descriverà nei minimi dettagli Perché altrimenti non riesco ad aiutarlo Neanche per un cazzo Io dovrò leggere Perché ovviamente Io da bravo professionista Conosco benissimo il manuale Come vedete le prime tre bombe Le abbiamo già fatte Giusto così per prova Io direi di iniziare Con la modalità selezione 2 Le basi Ma come vedete Ci sono tante cose Se magari noto che la cosa vi piace Magari io e Gecko Vi porteremo altri video insieme Allora direi di iniziare Con la 2.1 La bomba sappi Gecko che Durerà 5 minuti Arrivato a 0 Esplode Ci saranno 3 moduli E un massimo di 3 errori Inizio Va benissimo Allora Gecko Alla perfezione Gecko Dimmi Allora Tu sarai i miei Qua dice i miei occhi Non l'ho capito bene Dai a filo blu No 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 Aspetta Non vedo niente No 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 C'è l'allarme Allora Gecko Gecko c'è la bomba Gecko Aiutami Ok 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 Non ci sono Che c'è Quanti cavi vedi Quanti cavi vedi Non ne vedi Allora 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 C'è un tasto enorme C'è un tasto rosso Con la scritta abort Cosa devo fare Te lo vorrei dire Ma è un po' abort Gecko Quattro minuti Ne esplode Allora È blu È blu No è rosso È blu È rosso Ma com'è rosso Dio Chris Aspetta Dove Metti in pausa Questo rosso C'è scritto abort Sì Sono sicuro che è blu No È rosso Ma come no È rosso Rosso l'ha scritta abort Allora Allora Aspetta un attimo Non mi mettere ansia Capito Striccia azzurna Che cazzo sta Abbiamo tutto il tempo Del mondo Cioè Signor Gecko Tre minuti e cinquanta Non va Qua c'è scritto Che abort C'è il colore blu Non è rosso Sei sicuro che c'è scritto abort Vabbè Andiamoci a caso Tieni lo premuto Tieni lo premuto Ok E poi Tieni lo premuto Il pulsante Riferissi alla sezione Lascialo Non lo so Oh Andato È andato Ok Ok Che collo Perciare I cavi I cavi ci sono Non ne ho cavi Allora Ho i tastini Allora c'è la stella Il punto interrogativo Roresciato Il simbolo dell'euro al contrario È un palloncino Una specie di palloncino Una specie di palloncino Una testa di o meno Che cazzo Vai euro Vai euro Euro palloncino Vai Stella Giusto Sì Sì Vai Allora L'ultimo modulo No sì L'ultimo modulo Allora I numeri Ho i numeri C'è un numero Due E poi sotto Quattro numeri Due Uno Tre Quattro Eh la persona È chiamata Non è al momento No dai Gecko Due Minuto Gecko La tua vita La mia vita È nelle tue mani Allora C'è Butta la finestra Dove sono i numeri Non lo so Allora Non lo so Io c'è un numero Due E quattro numeri Sotto al numero Signor Gecko Un minuto e cinquanta Ma che cazzo stai dicendo Quattro numeri Numero due Sì Sotto al numero Ok Ok Forse ci sono Ok Dimmi se lo schermo Ok Che schermo Ok Porca putta Che numero c'è nello schermo Due 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 Premere il bottone Premi quello nella seconda posizione Ok 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 Allora Ok Adesso c'è il numero quattro Premi Il Sempre Seconda posizione Sempre Seconda posizione Ok 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 Ho il numero uno Premi il numero della fase due Quello che c'era nella seconda posizione Mi pare che era il due Gecko abbiamo sbagliato Gecko Gecko c'è uno strike Gecko Allora Si Gecko Numero tre Gecko Numero tre Gecko C'è il tre Uno due Quattro tre Gecko Quattro secondi Gecko Sono morto Aspetta Dove cattere Aspetta No tre Dobbiamo ricominciare Si Tre 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 Veloce Gecko Premi il numero E a terza posizione Ma fa culo Vai Quattro Vai veloce 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 No Gecko Non mi abbandonare Gecko 20 secondi Sto per morire Gecko C'è il numero due Salve se è il cugino No dai Gecko Due secondi Sono morto Sono morto Sono già morto Sarà per la prossima volta Signor Tempo rimasto Zero secondi Causa dell'esplosione Tempo scaduto Ok Cinque minuti C'è buio Non vedo niente Di nuovo i numeri Ok C'è il numero tre Ok sempre Va bene C'è il numero tre Sì Bottone Terza posizione Ok Il quattro Ok 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 Poi Ricordatelo Va bene Tre Poi Che c'è Tre C'è il tre Bottone Prima posizione Ok Adesso siamo seri Vai Vai Il numero uno Numero 1 Il bottone con lo stesso numero della fase 2 Quindi quello lì che hai premuto prima Ok, ok, 2 Sì, 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 fatto Ok, 4 Poi c'è il 4, premo il bottone nella stessa posizione Sempre quello, però il bottone Non il numero, il bottone della posizione Nella fase 2 Era Nella prima posizione Se non mi sbaglio Ok, sì, prima posizione Ok, 3 Minchia, io ricordo le cose assurde 3, ok, premere il bottone con lo stesso numero Della fase 4 Devi ricordare il numero che hai appena premuto Mi pare che era l'1 Dai cazzo, Peppo Non me lo ricordo Era l'1 No, no, è il bro Allora, ho sbagliato Gekko, Gekko, veloce Ricominciamo, allora 1 Veloce, 1 Premere il bottone la seconda posizione Vai, 1 Ok, vai 1 Seconda fase pure 1 1, sì Ok, premere il bottone con su il numero 4 Fatto 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 Ok 3 3 3 3 3 3 Bottone terza posizione Terza posizione Ok 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 3 3 3 Bottone la stessa posizione della fase 2 No Vabbè E cazzo Dov'era il 4 Ricordati dov'era il 4 Dai, Peppo Non me lo ricordo Non me lo ricordo Ma non ti insegnerò niente le torrigele Ok Fatto 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 Ok Numero 1 Numero 1 Numero 1 Premere il bottone con lo stesso numero della fase 1 Mi pare che era la terza posizione Poi ce la puoi fare Ce la puoi fare Ho una possibilità su 4 Aspetta Lo stesso numero Oddio Oddio Qual era? Dai, Peppo Dai Che tu ce l'hai lo schermo davanti Io non c'ho un cavolo C'ho il diario degli Winderection C'è scritto Ho sbagliato, Dzeko Dzeko Ho sbagliato Alla, numero 3 Dzeko Dzeko Ce la facciamo No, non ce la facciamo Il bottone è la terza posizione Ok Premi il bottone nella stessa posizione della fase 1 Ok, ok 2 2 Premere il bottone con lo stesso numero della fase 1 Era 1 Me lo ricordo Me lo ricordo Ok Numero 4 Con lo ce il secco 4 Premere il bottone nella stessa posizione della fase 2 Dai, Peppo Non fare quella faccia che la sto immaginando Premi L'ho premuto Ok Hai sbagliato Non dirvi che hai sbagliato No, non ho sbagliato Però è esplosa E ora mai le bombe le fanno così male Non è colpa mia Mi sono scostumato La rifacciamo l'ultima volta Se va male Va benissimo Va male Allora Va benissimo Allora, Gecco Questa la disinneschiamo Me lo sento Perché io sono un disinnescatore professionista Ok Ok Sì, lui Allora Tastone rosso Con scritto Old Tastone rosso Pronto Già hai cominciato Fammi un attimo respirare Tastone rosso Tastone rosso Tastone rosso Dov'è Eh, non lo so Io c'ho Sento sopra Old 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 Aspetta, eh Se il bottone Premere Ok Premilo e rilascialo subito Premilo una volta Ok Fatto Fatto Ok Allora, c'ho i simboli I simboli Ok Allora, un 6 Porca buttare I cosi Stai Un 6 Ok La B minuscola E la B di banana minuscola Con Con Le alette Ok, bravissimo Sì La B con le alette Poi una X E una I Insieme Ok E poi una specie di imbuto Con tre gambe Non lo so Un triangolo Un trasformer Perfetto, perfetto Una specie di Cthulhu incredibile Sì Va benissimo Allora, 6 Sì B Ci mette 8 anni Sì Cthulhu Cthulhu, sì E la X Ok Ok Fatto Allora, adesso ho I quattro colori Blu, giallo, verde Blu, giallo, verde, rosso Ho i quattro colori Ho il quadrato Con quattro quadrati colorati C'è un rombo Più che quadrato Devi guardare il numero di serie Della bomba Guarda il numero di serie Della bomba XF2V01 E contiene una vocale No No, ok Allora, se non contiene una vocale Dimmi i colori Lampeggia il giallo Lampeggia il giallo Quindi Rosso Ok Adesso lampeggia Giallo e verde Lampeggiano giallo e verde Giallo e verde Sarebbe Rosso verde Ok Rosso verde Lampeggiano giallo Verde e rosso Rosso Verde e blu Sì Sì Ho vinto Ho vinto Ok No, questo dovrebbe essere così Sì 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 Le bombe Le bombe Ragazzi Abbiamo Disinnescato No, io l'ho disinnescata Non hai fatto un cazzo Ho fatto tutto io Tempo rimasto Due minuti E 31 Allora ragazzi Facciamo un caffettino Siamo riusciti A disinnescare Una bomba Come vedete Ce ne sono ancora tante Fatemi sapere Qui sotto nei commenti Se vorreste Ancora che io E Geko Disinnescassimo Appunto Queste bombe Insieme a voi E nulla Ringrazio Geko Per la compagnia Grazie mille Geko Vi ringrazio a tutti Per aver visto il video E come sempre Se mi è piaciuto il video Lasciate un bel pollicione Qui sotto al video E nulla Ci vedremo ad un prossimo video E fatemi sapere Se vorreste Altri video Su questo gioco Visto che le bombe Sono tante Ciao ciao Mi raccomando Il pollice Eh 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 Se no Esatto